Anche le Marche esprimono un no deciso alla riforma voluta da Renzi. Alle urne si sono recati il 73%, una percentuale maggiore rispetto alla media nazionale degli eventi diritto, ed il no ha vinto con un 55% a fronte di un sì che segna un 45%. L'aconico il commento del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, i cittadini non hanno voluto il cambiamento e rilancia gli strali del dopovoto. Ora, aggiunge, si dovranno restituire più risorse a livello regionale, dovendo le regioni gestire tante materie. Magra consolazione il sapere che in termini di miglior risultato del sì, le Marche vantano il quinto posto. Il voto in provincia ha segnato un 53% per il no e un 47% per il sì con Urbino in controtendenza. La città ducale ha sparigliato i conti facendo segnare la vittoria al sì con un 52% contro il no, che porta a casa solo il 48%. Nel capoluogo di provincia, città del sindaco Ricci, numero 2 a livello nazionale del PD, che si è speso senza riserve, sia a livello locale che a quello nazionale, per la carta referendaria si è assistito a un testa a testa. A spuntarla per un capello, si dice con solo 99 voti, il no però. Il ricci pensiero comunque è risunto in un twitter di poche righe, che fa chiaramente capire come il sindaco di Pesaro non abbandoni il carro del perdente e rilancia. Sconfitta netta, ma Renzi resta leader con 13 milioni di voti. A fanno le cose non sono andate diversamente dalla media nazionale. Il 46,5% è andata al sì e un 53,5% al no. Nelle città limitrofe con lievi differenze si sono avuti gli stessi bilanciamenti di forze e a sottolineare che anche nelle Marche e nella provincia che questa riforma così formulata della carta costituzionale non ha convinto i cittadini.